Allora Alessio, credo che oggettivamente più di così sia difficile fare. Sì, no, ho avuto delle buone risposte, peccato perché quei 45 punti all'intervallo sono troppi. Se noi vogliamo giocarci fino in fondo, questa partita qui dobbiamo chiudere l'intervallo con meno punti subiti e da lì poi costruire il terzo e quarto quarto, che poi è girato per episodi, con il parziale di 5-0 nel momento nostro di massimo sforzo c'è costato. È chiaro che se magari all'intervallo le fai girare con meno punti, perché siamo un po' più attenti su uno contro uno, su qualche rimbalzo subito di troppo, magari te la giochi fino in fondo. In realtà poi ce la siamo giocata, perché secondo me forse il parziale più ampio è quello finale, se non sbaglio non lo so, credo sia proprio il parziale più ampio. Non siamo lontani da questi livelli e questo ci fa un bel sperare, dobbiamo mettere un po' di cosina a posto, ma sono soddisfatto della seconda parte di gara. Ci sta anche uno 0-4 e liberi in un momento importante, anche sulle piccole cose ovviamente si è vista la differenza. Sì, è stato quel momento lì, proprio una slide indoors del massimo sforzo, che, ripeto, ci sta anche con una squadra comunque nuova, la nostra, giovane. È per questo che dico, se all'intervallo le tieni più basse, magari non pesano come un macigno con il 0-4, i tiri liberi lì che poi con un canesso subito dall'altra parte, e magari ti puoi permettere anche di fare un errore e così non è stato. Ci serve un percorso e oggi credo si sia preso anche la direzione giusta. La zona ha funzionato in quel momento di rimonta? Sì, la zona ha funzionato, ma ha funzionato perché si tenevano uno contro uno, anche nella Uomo in quel momento di rimonta. Avevamo visto una settimana che poteva essere contro di loro utile, contro determinati quintetti, l'avevamo provata apposta e sapevamo che poteva funzionare, ma ha funzionato, la differenza è anche lì tenere e esserci un pochino di più sulle gambe. Di due giorni fa la notizia che Praz ha lasciato l'userosa, ovviamente la società è sul mercato, qual è un po' il punto? Al punto intanto un grosso in bocca al lupo a Laura, che si dovrà sottoporre questa operazione al ginocchio. La prima cosa che mi preme è di dargli in bocca al lupo, perché comunque è stata subito inserita all'interno del gruppo squadra, quindi perdiamo una giocatrice importante. Sappiamo che magari in questo momento siamo un pochino più corti senza delay sulle esterne, ci guardiamo attorno, però devo dire bravi a chi ha risposto presente, perché comunque alla fine anche la stessa Sara Casini che è entrata dopo, Francesca Antonini che sono due ragazze giovanissimi, hanno dimostrato che ci possono tranquillamente stare in questa categoria. Doppia trasferta ora, Costa Masnaga e Comenze. Sì, il calendario ci metteva di fronte a un bel inizio tosto, due squadre secondo me tra le favorite, Costa Masnaga e San Giovanni, erano due partite proibitive. La cosa che mi dispiace è che forse non ci siamo arrivati al meglio fisicamente, perché anche in settimana abbiamo avuto un po' di acciacchi, non l'abbiamo detto, però qualche giocatrice ha recuperato nel finale di settimana, come ho detto prima Prats e poi l'abbiamo persa, quindi mi sarebbe piaciuto arrivarci in modo diverso, però oggi abbiamo dimostrato che contro San Giovanni ci possiamo stare e ce la possiamo giocare e di conseguenza ce la possiamo giocare anche a Costa Masnaga, sapendo che non dovremo sbagliare niente, perché appena sbagliamo come oggi poi ce la fanno pagare, perché sono oggettivamente le squadre attrezzate.